A fine dicembre la Scuola Basket Aghezzo organizza la prima edizione del trofeo Città della Giostra. Come nasce l'idea e di cosa si tratta? Questo torneo nasce dall'idea di offrire l'opportunità al mini basket di un torneo importante come facciamo già nel periodo di aprile e maggio per le categorie più grandi. C'è molta richiesta, negli anni passati molte squadre ci hanno chiesto di partecipare a un torneo per quanto riguarda le categorie giovanili. Abbiamo scelto per questo gli Aquilotti 2008 perché riteniamo che sia la categoria giusta per un torneo di questo tipo che vedrà le squadre per tre giorni confrontarsi un po' sulla falsariga di quello che è il torneo Guidelli. Siamo già avanti nell'organizzazione, abbiamo la fortuna di avere già un main sponsor del torneo che è la Nova Verta che supporta tutto il nostro settore mini basket e che ci fa molto piacere e ci sarà vicino anche in questa nuova avventura. Quindi ci sarà proprio nel periodo delle vacanze natalizie l'invasione di tanti bambini? Sì, saranno 16 le squadre partecipanti, ho ridotto solo la categoria Aquilotti 2008, quindi diciamo un torneo giusto per avere la possibilità non solo di giocare ma anche scoprire la nostra città. Per questo che abbiamo scelto come titolo del torneo, come intitolazione Arezzo il trofeo città della giusta perché crediamo molto nell'abbinamento del fatto sportivo alla conoscenza del territorio perché tante volte noi magari non apprezziamo a dovere quello che abbiamo intorno mentre siamo ormai abituati a vedere chi viene da fuori che rimane sempre estasiato nel venire a fare il nostro torneo.